Stefano Umber, alla fine di questa partita, come è possibile vedere un primo tempo bellissimo col derby e una partita così brutta come stasera? Non sono difficile da dire, loro hanno giocato in ogni tempo, meglio di noi, loro hanno vinto i special team, Powerplay, PK, abbiamo fatto troppo facile per loro, sì è difficile di spiegare ma domani è un nuovo giorno, un nuovo partita. Non ricordo una volta da quando c'è la resega, qui o anzi ancora in arena, di aver visto il Lugano tirare così poco nel primo tempo come è successo questa sera, non è mai successo tirare soccato due volte e avete avuto un 5 contro 3 per qualche secondo e addirittura un Powerplay. Sì lo so, non so cosa voglio dire adesso 5 minuti dopo la partita ma è veramente difficile di spiegare in quel momento, abbiamo giocato tanti Powerplay anche 5 contro 3 come hai detto e abbiamo fatto più o meno niente, neanche tanti tiri, neanche al corso del momento per la nostra squadra e loro quando hanno giocato Powerplay hanno segnato due volte e quello è più o meno una partita. Può essere un bene andare a giocare subito domani in trasferta, non avete ancora vinto in trasferta in campionato, forse è il momento buono dopo una serata così storta di andare a giocare su un campo difficile come quello del Ginevra che l'altra sera è andato a battere addirittura anche il Berna. Veramente quello è bello di nostro sport, abbiamo una partita domani in trasferta, non abbiamo vinto come hai detto, quello è molto importante per noi perché dopo questa partita dobbiamo migliorare in tante cose e perfetto momento per mostrare domani. L'ultima cosa, il pubblico nonostante la vostra prova diciamo deludente, vi ha sostenuto lo stesso per tutta la partita, significa insomma un certo attaccamento della curva verso di voi nonostante una serata che purtroppo è andata completamente tutto storta. Sì ma è importante che i tifosi sono sempre dietro di noi anche quando giochiamo così è difficile anche per noi, noi abbiamo saputo che non abbiamo cercato il nostro migliore, neanche una partita bene, neanche ok, abbiamo veramente cercato ognuno male oggi, ma è sempre bello quando hai tifosi ancora dentro di te, dietro di te così tutta la partita durante 60 minuti e adesso dobbiamo mostrare se siamo meglio come abbiamo cercato oggi. Lasciamo andare perché domani è una trasferta lungo di Ginevra, grazie ancora. Grazie.